Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 7 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox Oroscopo Toro Serata esplosiva, stile anni ribelli. Ve li ricordate i nostalgici anni 60, quelli della ribellione? C'era un ragazzo che come me. Cantava Morandi nel 1966 e ora a distanza di più di 56 anni rispetto al Tg del momento con Marte Battagliero in se stile Aurano nel vostro segno, rabbia e ribellione si agitano nel vostro cuore contro ciò che considerate un sopruso. Qualunque sia la vostra parte guerra e amore non vanno d'accordo, faticate a mantenere il tenore di vita prima e anche le belle serate romantiche, insieme alla vostra dolce metà, hanno cambiato registro. Momentaccio per chi un compagno non ce l'ha e scarica le carenze affettive sull'amicizia, accampando probabilmente un po' troppe pretese a giudicare dalle reazioni altrui. In pratica fate fuoco e fiamme ma del tutto avulsi dalla realtà attuale, vivete di musica, fantasia, discussioni. Ma da quando in qua un toro non tiene i piedi per terra? Dubbi e notevoli contrasti possono pervadere la coppia che così sente il peso delle incomprensioni e il rapporto potrebbe incrinarsi presto. Allontanamento di persone a cui si è interessati, i single neri sentiranno particolarmente. A volte può capitare di sentire freddo nell'anima, generalmente basta distrarsi ed evitare di pensare troppo a quello che sarebbe potuto essere ma non è stato. Non restate soli, cercate compagnia e uscite dalla routine. Venere oggi vi sorride, ci sono concrete possibilità di incontri nuovi e interessanti, anche se siete già impegnate il vostro cuore potrebbe essere incuriosito da persone nuove. Buone nuove in amore per i nati di giovedì dalle 10 alle 12. Per tutti gli altri l'amore sarà alterno. La luna incoraggia tutto ciò che farete con un'energia incredibile, luminosa e meravigliosa nel vostro cielo oggi vi guiderà quasi in ogni passo. Siate pratici e concreti. Sarai ottimista, attirando su di te le migliori situazioni. Sorprese. Favoriti i cambiamenti. Riceverai favori. Possibili nuove conquiste in serata. Bene G primi acquisti di ogni tipo. Ottimo accordo con Gmelli e Acquario. Cambiamenti fortunati. Nuove idee che frutteranno bene in futuro. Oggi per alcuni si presenteranno piccole occasioni di lavoro, niente di straordinario ma meglio di niente. Se state pensando seriamente di mettervi alla ricerca di un lavoro oggi è il giorno adatto per farlo. Oggi potreste essere giudicati e sentirvi al centro dell'attenzione e dei pettegolezzi. Un po', diciamocela tutta, potrebbe essere anche colpa vostra. Marte potrebbe infastidirvi facendovi avere qualche reazione spropositata. Occhio all'impulsività. Possibilità di incontrare un vostro ex partner, fate in modo da mostrarvi indifferente e mettete in conto anche che si riprenderanno vecchie dispute. Scena zodiacale contraddistinta da posizioni celesti altalenanti. In un quadro fondamentalmente sereno si possono delineare alcune contrarietà che toccano i rapporti familiari e i legami genitori figli. La vostra affabilità aiuta però a sciogliere sul nascere ogni accenno di tensione. La giornata di domani riserve rivincite personali, siano esse piccole o grandi. Negli ultimi giorni avete vissuto momenti difficili ma nei prossimi giorni arrivano novità molto interessanti. Potete svolgere molto lentamente le vostre attività, specie considerando che tutto sta andando per il verso giusto. Prendersi del tempo per godersi il momento è il modo migliore per viverlo al meglio. Sicuramente potrete imprimere questo periodo nella vostra mente, ricordando la parte migliore, ma anche gli insegnamenti ricevuti. E' proprio un buon metodo per crescere e maturare. Buon compleanno con il sole abbracciato a Urano, entrambi buoni amici della Luna, dunque un sabato perfetto per uscire dall'azienda un po' in anticipo e correre subito a festeggiare o a rilassarsi al mare o al lago. L'acqua lava via la fatica, i problemi, le tensioni scatenate da colleghi competitivi pronti a farsi le scarpe l'uno con l'altro. Ecco l'effetto di Marte in sé stile, mentre la vostra creatività alangue. Le idee magari ci sono, ma poi all'atto pratico non quagliate, è il bisogno di guadagno, da mettere subito al servizio di altro, a tarparvi le ali. Amore ed Eros Le poesie romantiche che vi vengono in mente le scrivete nel vento per qualcuno, i famosi principi e principesse delle fiabbe, che ancora non conoscete. Può essere una tattica di difesa anche questa, di innamorarsi di un sogno, così non rischiate fregature e in ogni caso la solitudine vi sembra meno triste. L'indipendenza, la libertà sono un pretesto per non mettervi in gioco e non rischiare altre lacrime e amare. Pace fatta tra fratelli, magari davanti a un buon dolce l'impresa diventa più facile. Cari Toro, in amore nel corso della giornata qualcosa potrebbe prendere una piega inaspettata, cercate di evitare le polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro valore non passerà inosservato, le cose andranno meglio rispetto al passato. Ve lo meritate anche. Risulterete distanti e assenti con il partner. Aspettatevi una reazione non proprio positiva e cercate di fare un'autoanalisi. Per i single, la questione è più grave, perché siete diventati completamente ciechi. Saturno Aquario in orbita dissonante vi porta a non percepire profondamente gli umori del partner quest'oggi. Vi avvicinate con la vostra semplicità, il candore tipico del vostro segno, ma forse questo non basta a penetrare il suo modo di sentire. Sarà il colloquio aperto e affettivo ad aiutarvi, a comprendere lo stato d'animo di chi vi vuol bene e a far appianare anche dentro di voi dubbi e pensieri fuorvianti. In special modo se appartenete alla taurina terza di cade. Lavoro e denaro Tensioni in azienda, circondati da gente rampante vi sentite calimero il pulcino nero senza capacità e prospettive. Naturalmente state esagerando, presi da una crisi di insicurezza andate cercando conferme, rassicurazioni sulle vostre competenze. Volete sentirvelo dire che siete geniali, originalissimi, vi occorre solo un po' di incoraggiamento. Spese in libreria e anche se siete alverte quelli sono soldi ben spesi. Ci vuole più grinta. Come pensate di impressionare il capo se non con un po' di sana iniziativa? State solamente attenti a non pestare i piedi a chi vi sta intorno. Nuove prospettive in campo professionale si delineano per voi, prendendo una direzione più chiara dopo un confronto garbato avuto in ufficio con un superiore. La possibilità di dare alla vostra carriera una svolta di grande importanza non è tanto lontana. E l'occasione di fare un bel passo in avanti ve la fornirà uno splendido plutone, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 18 di maggio, facendovi entrare in contatto con le persone giuste, tocca a voi dare tutto il vostro contributo attivo. Benessere Nervosetti, ma un po' di tensione fa bene, vi impedisce di abbioccarvi cedendo all'input dell'ozio. Poca cura dell'abbigliamento e degli accessori pescati a cassaccio dall'armadio, evidente che non siete in fase amorosa, altrimenti uscireste di casa con ben altro aspetto. E il profumo? È la griffe personale, non rinunciate almeno a quello. Per provare il senso di partecipazione al massimo, assicurati di esercitarti bene e far circolare bene il sangue. Quando ti senti fisicamente impegnato con la tua forza, sei più pronto a dare. Per lei, ci sarà anche la crisi, ma quando entrate in libreria ve ne dimenticate totalmente, la cultura è un bene prezioso da coltivare come il basilico sul davanzale. Per lui, la libertà non ha prezzo, potete rinunciare alle serate gogliardiche, alle gite, all'auto, ma ai piedi del potere sopra la testa, quello mai. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.